Andiamo a calcolare la massa molecolare di questo composto. K4, parentesi quadra, Fe, parentesi tonda, Cn6, parentesi quadra, per 3H2O. Ora, qui dobbiamo stare un pochino attenti perché dobbiamo capire che cosa significa. Innanzitutto questo è un composto, ok, che non è un composto senza l'acqua, vedete, c'è la molecola dell'acqua. Che significa questo? Che è un composto idrato, in questo caso si chiama triidrato, ok? Che cosa bisogna fare quando mi trovo davanti a questo tipo di esercizio? Innanzitutto calcolare la massa di questa molecola e poi calcolare la massa di queste tre molecole d'acqua, ok? Quindi, devo sapere che ci sono quattro atomi di potassio, un atomo di ferro, poi c'è un atomo di ferro e un atomo di azoto, però presi sei volte, quindi sei atomi di carbonio e sei atomi di azoto. E qui ci sono tre molecole di acqua, ok? Qui è come se fosse tre per molecola d'acqua, quindi io in ogni molecola d'acqua ho due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, ma avendo tre molecole d'acqua, praticamente avrò quindi sei atomi di idrogeno e tre atomi di ossigeno, ok? Procediamo per gradi. Allora, la massa molecolare è uguale. Massa del potassio per quattro, il potassio ha massa 39,1, quindi 39,1 per quattro, più. Allora, potrei aprire parentesi quadra, ma siccome tutto ciò che è all'interno della parentesi quadra non è preso due o tre o più volte, è preso solo una volta, posso anche lasciar stare. Quindi vado a trovare la massa del ferro, vedete, 55,84 più 55,84 più, adesso devo stare attento, perché vedete il carbonio è uno, l'azoto è uno, ma sono presi tutti e due sei volte, quindi ci sono sei atomi di carbonio e sei atomi di azoto, per cui farò sei per la massa del carbonio, che è 12, più la massa dell'azoto per sei volte, sei per l'azoto è 14. Poi abbiamo detto, qui c'è un simbolo moltiplicato, 3H2O, ma questo simbolo in chimica sta a dire che devo aggiungere, cioè che in questo composto ci sono tre molecole di acqua, in qualche modo collegate a lui, per cui posso andare a moltiplicare 3 per 2, 6, quindi avrò 6 atomi di idrogeno, quindi devo moltiplicare il peso dell'atomo di idrogeno, 6 per, vado a vedere quant'è, ed è 1, 6 per 1, ok? Qui ho tre atomi di ossigeno, in realtà ne ho uno per ogni molecola di acqua, ma essendo tre, quindi tre atomi di ossigeno, più 3 per, l'atomo di ossigeno, a massa 16. Oh, adesso posso procedere a fare tutte le mie somme. Allora, 39,1 per 4, 156,4, più 55,84, più 12 per 6, 72, più 14 per 6, 84, più 6, più 3 per 16, 48, più 48, ok, posso procedere, 154,6 più 55,84 più 72 più 84 più 6 più 48 420,44 420,44 520,44